ciao buongiorno oggi una grande sorpresa il tempo non è il massimo però alle me alle mie spalle c'è il golfo di napoli quindi capirete che da quest'altra parte abbiamo il vesuvio nel frattempo che salvo colgo l'occasione per salutare tutti gli iscritti tutte le persone come sapete è un vulcano attivo crescente e con quello che sta succedendo ora alla farma un po fa pensare l'ultima eruzione del vesuvio risale al 1944 qualche informazione si tratta di uno strato sono anche vulcani più belli praticamente quelli fatti a cono però oltre ad essere bello è anche pericoloso perché ora c'è foschia però si vede la densità della popolazione che ha dei suoi pendici infatti bisogna considerare che un vulcano esposivo una eventuale evacuazione è molto molto difficoltosa il pompei è veramente un fatto storico che ci ricorda di quanto può essere pericoloso oltre ad essere pericoloso oltre ad essere pericoloso oltre ad essere pericoloso ovviamente ora non entriamo in merito perché si dovrebbe parlare anche della pericolosità dei campi flegrei il nostro obiettivo di oggi sarei d'accordo di arrivare in cima al cono ok siamo arrivati al cono continua il nostro tracetto intorno al cono da qui si vedrebbe tutto il golfo di napoli ma come vedete si sta proprio più bene completamente se ricordo bene non vorrei dire una cosa scoletta la camera magmatica è tappata da un tappo di soli 5 km nonostante il tempo non sia bello c'è questo gioco con i numeri che è fantastico nonostante il nostro obiettivo è veramente un posto unico 1200 metri del vulcano vesuvio Io spero che vi arrivi queste sensazioni. Alle mie spalle purtroppo si vede male per la foschia c'è Pompei. Bene dal Vesuvio per oggi è tutto se il video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per scegliere la notifica nei prossimi video ci vediamo a presto KEEP IN TOUCHE Grazie